62 anni di età e 38 di contributi, uguale quota 100, oppure 41 anni e 6 mesi di contributi, a prescindere dall'età. E' questa la soluzione avanzata dal ministro dell'interno Matteo Salvini per superare la legge Fornero, che dal primo gennaio consentirà di lasciare il lavoro solo al compimento del 67esimo anno di età. Ma con quali conseguenze? Quanti potrebbero avvalersi del provvedimento e quanto costerebbe allo Stato? Secondo le simulazioni effettuate dalla società Tabula, potrebbero essere 660.000 i beneficiari della misura nel solo primo anno di applicazione e il costo, abbinando quota 100 e l'uscita a 41 anni e 6 mesi, sarebbe di 13 miliardi di euro nel primo anno e di 20 miliardi a regime. Applicando solo quota 100, invece, il costo scenderebbe a 8,5 miliardi di euro per il primo anno e a 11 miliardi a regime, ma potrebbero beneficiarne solo 350.000 lavoratori. Se si fa riferimento a quelle registrate dall'Inps nel 2017, pari a poco più di 153.000 unità, le uscite dal lavoro con le nuove misure sarebbero, nella migliore delle ipotesi, più che raddoppiate, con un aumento previsto del 129%. Maschio, residente al nord, ed entrato molto presto nel mercato del lavoro. È questo, secondo gli esperti di Previdenza, l'identikit della maggioranza dei beneficiari delle misure ipotizzate dalla Lega, che andrebbero a sommarsi alle pensioni anticipate e di anzianità, che sono al 78% destinate a titolari di sesso maschile, la metà residenti al nord, quasi il 20% nella sola Lombardia, una su cinque al centro e il resto al sud.